Tutto il mondo è qui praticamente, è la settimana santa questa Ci siamo ragazzi, ormai Sanremo è letteralmente invasa da appassionati provenienti da tutta Italia E ovviamente siamo qui anche noi, come al solito siamo alla ricerca dei prossimi ospiti di Guest The Heat Chi raccoglierà la sfida questa volta? Allora ripetetemi i vostri nomi Io Simone e io Vittorio Com'è l'atmosfera di questo festival qui a Sanremo? Interessante, è sempre molto frizzante in questi giorni La settimana calda questa Tutto si blocca, tutto il mondo è qui praticamente È la settimana santa questa Le regole di Guest The Heat sono molto semplici Gli ospiti avranno la possibilità di ascoltare alcuni dei più grandi successi di Sanremo E avranno a disposizione un buzzer Il primo che si prenota e indovina tre delle canzoni proposte vince Qui è tutto pronto, iniziamo Partiamo? Pronti, via A posto, via Luca era gay Adesso sta con lei Povia Sì, viene dal titolo Luca era gay Perfetto, 1-0 per? Per Vittoria Vittoria Mannaglia Andiamo subito con la seconda traccia Ma questo è Checco Checco Vai Arriverà Ok Nooo Arriverà 2-0 Passiamo subito con la prossima Vai Questa è salirò, dai Perfetto, allora dai 2-1 Attenzione che si arriva a rimontone, eh Ok, partiamo subito con la prossima traccia Vai Una terra promessa Perfetto, allora siamo due pari, ragazzi 1-1 2-0 Ce l'hai? Alexia Per dire di no Per dire di no, bravissimo Nooo Allora siamo arrivati al 3-2 Ti porti a casa il gadget e scendiamo che facciamo la premiazione Nooo E siamo qui con il vincitore di Guest The Hit, Vittorio A te questo cofanetto di Seat con dentro il tuo gadget che è Lo scopriamo, lo vuoi aprire? Apri, apri Apri, apri, vediamo che cos'è Apri Una cassa a serio Bluetooth Powered by Seat E a te un piccolo gadget di consolazione Una matita Ma grazie Grazie per aver partecipato Ci vediamo alla prossima con Guest The Hit Bella raga Ciao, bella Ciao 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 Ciao